Italiani all'estero tv presenta Grazie a innovazione, creatività e competenza siamo leader nella progettazione e produzione di imballaggi in carta e cartone per contribuire al successo della tua azienda Picchitti Fustelle, via Martiri di Felisio 3, Solarolo Canto per te, l'unica che ho amato tanto così, milleuna notte fa Canto per te, che un giorno mi hai lasciato senza un attimo, nemmeno una bugia Canto per te, perché mi sono perduto per non morire, canterò per te Canto per te, canto per te Canto per te, per non morire, canterò per te Canto per te, canto per te Le spiagge, le spiagge, son volati già Canto per te, canto per te Canto per te, canto per te, canto per te Canto per te, canto per te, canto per te, canto per te Canto per te, canto per te, canto per te Canto per te, canto per te, canto per te Che meraviglia, Michele, a Tambur Battente Show Sempre ad Andalo Fidia, bellissima questa canzone Hai visto? Scritta da Michele Scritta da me, grazie Grazie, tu rimarai qui ancora sette settimane Grazie, grazie Michele Allora, bentornati a Tambur Battente Show Fidia, naturalmente la regia di Francesco Dard La direzione artistica di Thomas Tassinari Un grazie a Maria Teresa Lanzetti E Maria Rosa Postorino Andiamo a conoscere i nostri ospiti Un ospite c'era anche la scorsa settimana E' andato Cioè, è incredibile Quest'ospite prende l'aereo come noi prendiamo la bicicletta Washington, Marocco, Andalo Il grande Gramminos Mastroieni, eccolo qua Ormai è diventato un ospite Sempre applauditissimo Poi Loris Pagano E Pierdante Piccioni Allora, tu devi sapere che il dottor Piccioni E' un medico E lavora all'ospedale Di Codogno A Lodi A un certo punto Hai scritto anche un libro Ah, questo è fantastico E facciamolo vedere alla telecamera A un certo punto tu Dottore hai avuto un incidente stradale Hai avuto un malore in macchina E sei andato in coma Sì Giusto? Eh, sei stato in coma Quanto tempo? Poche ore Poche ore Poche ore Ti ricordi del coma? Non hai visto la luce, il paradiso? No Però poche ore Un sonno profondo Quando ti sei risvegliato Che cosa è successo nella tua mente? Mi sono risvegliato Convinto Era il 31 maggio del 2013 Sì E quando mi sono svegliato il pomeriggio Perché l'incidente l'ho fatto al mattino Io ero convinto che fosse il 25 ottobre del 2001 Quindi l'incidente l'hai avuto? Nel 2013 il 31 maggio Quindi 12 anni della tua vita cancellati? Sì Un crisscross Dal punto di vista della motilità Mi hanno trovato con la parte destra paralizzata Che farfugliavo E quando mi sono svegliato la roba è continuata Poi è migliorato molto Non completamente tutto recuperato Ma purtroppo Gli esami che vi dicevo Hanno documentato delle lesioni all'interno del cervello Che giustificano la perdita di memoria Senti ma Però tua moglie l'hai riconosciuta? Sì Mia moglie l'ho riconosciuta Questa è una battuta Quando me lo chiedono Dico sempre che Bisognerebbe sempre mentire Con le proprie moglie Con le proprie compagne Perché la prima cosa che ho notato Le rughe che aveva sotto il collo Non me l'ha ancora perdonata Che le abbia Ah quindi le rughe Quante rughe Perché nei miei ricordi Lei aveva i capelli lunghi Senza occhiali Ah quindi tu la ricordavi da 12 anni prima Certo da 12 anni prima Sai che noi È pazzesca sta cosa Non sapendolo però Chiediamo sempre per capire Quanto è presente il paziente che abbiamo davanti Ma che ricordi hai Oggi che giorno è Io continuavo a dire Oggi è Perché il mio ultimo ricordo era 12 anni prima Accompagnavo mio figlio piccolo A scuola All'elementare Che Non aveva più No copiva 8 anni quel giorno E io Quindi mi ricordo i pasticcini Le bibite E quello è l'ultimo ricordo che io ho E quello dopo è Io che mi sveglio In un pronto soccorso Ho capito Ma nel tempo non hai riuscito a recuperare Nulla di questi 12 anni No Te l'hanno raccontato Me l'hanno raccontato Neanche con i racconti Né con i racconti Né con i video Né con le fotografie Io tuttora sono seguito Al Niguarda Il centro Ti stanno quindi Comincerò a breve Una fase di recupero Fatta sia in ipnosi Che da sveglio Con delle stimolazioni Transcraniche Tutta una roba Abbastanza complicata Però nel tentativo Di capire se Qualche file È per caso Nascosto Nella memoria L'intenzione è che qui abbiamo Un grande personaggio Della Farnesia Adesso contatta la CIA Ti chiamano Perché Fidia Ha 52 anni 52 Però anche lei Ha avuto così un blocco Sono rimasta gli 11 Sì però Non si direbbe Non si è Però ha 55 anni Fra un po' va in pensione Infatti le rughe però Me le hanno No non ci sono No 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 Bisogna vedere se passa l'ape Cioè Lei può andare in pensione Senti Tua moglie ha scritto Tu l'hai scritto Gli occhi degli altri Sono il segno Del nostro amore Sì Perché sono le porte Dell'anima Sì Quindi gli occhi Di tua moglie Non li hai riconosciuti No li ho riconosciuti Infatti lei era lei Tutto il resto Non era lei La lei che mi ricordavo Quando non riconosci le persone O sono invecchiate E tantissimo Lo strumento Che ho utilizzato io È quello di guardare negli occhi Perché gli occhi Sono la parte di noi Che cambia assolutamente di meno L'iride La parte colorata Ha pochissime variazioni Nel corso degli anni Io in 55 anni È rimasto uguale Eh sì Rimane uguale Il resto cambia Al di là di quello Che tu puoi modificare Chirurgie estetiche Ed altro Però gli occhi Gli occhi rimangono Veramente Forse l'unica cosa Che ci accompagna Identica Ma l'amore per tua moglie Era di 12 anni prima E mi sono dovuto Rinnamorare di mia moglie È pazzesca sta cosa È una roba Ti racconto una cosa Quindi ti sei rinnamorata Di lei Per la seconda volta Quando Allora Conta tanto anche il fisico Perché io poi con mia moglie Ci ho rifatto l'amore È certo Ci mancherebbe Era diverso dai 12 anni Eh sì Per me sì E lei dopo Non la prima La seconda volta Mi ha detto Perché ho bisogno Di conferma Anche Ti devo confessare Una cosa Avevo paura Di non piacerti più È tenerissimo È carinissimo E invece Per fortuna Qui tu hai vissuto Un'altra vita Sì io Praticamente sì Adesso sì Due vite Due vite Assolutamente due vite Io conosco Sono molto amico Con Cino Tortorella Lui Ebbe l'ha raccontato Anche in Rai Qui da noi A Mediaset Ebbe Andò Un arresto cardiaco Quindi andò Era morto clinicamente Ed è tornato in vita E anche lui dice La stessa cosa Io sono ritornato A vivere un'altra vita Sì Decisamente sì Quindi lui Compie gli anni I giorni in cui Ma anche nei confronti Dei miei collaboratori I miei pazienti Tu sei primario Io sono primario Sì Mi dicono E ho cambiato posto Perché prima ero primario All'Od Adesso sono a Codugno Però sempre primario Di pronto soccorso Mi dicono tutti Che sono meglio Sì Ora Infatti mi chiedevo Ti senti cambiato nel carattere Sono molto cambiato nel carattere Un'altra persona Ascolto di più Intanto ho fatto un'esperienza Che auguro a tutti i medici Diventare pazienti Non auguro Quello che mi è capitato Perché non lo augurerei Perché è stato veramente pesante Però un po' pazienti Però passare dall'altra parte Della barricata Ti aiuta E infatti Le persone che stanno attorno a me Scherzosamente dicono A sapere Ad aver saputo Che andava a finire così Gliela davamo noi Prima una botta in testa Perché Perché tu com'eri Molto esigente Molto pignolo Ero primario Ero un Quindi il capo Il capo Che fa il capo Sei un fratello Ascolto Ascolto molto di più Quando devo fare il capo Lo faccio Per carità Però Esatto La parola chiave L'ha detta bene lei Sviluppa l'empatia Empatia E' completamente diverso 55 anni Tu che sei Gran meno che sei a contatto Con i grandi della terra Alcuni Al Gore Poi mi piacerebbe Un'altra volta Adesso non c'è tempo Oggi Capire poi questa Al Gore Era poi diventato Presidente degli Stati Uniti Poi per uno scarto di voti E Dovrebbero utilizzare I politici L'empatia Come diceva Fidia L'empatia Effettivamente manca Ma nei pochi minuti Che hanno preceduto La trasmissione Noi già ci stavamo cucinando Quindi state diventando amici Prego prego Andiamo pure a spiegarla Certo Certo Beh ho scoperto Che lui aveva Un impegno Potenziale Nel mio campo Lui ed i suoi amici Andavano in Africa Vanno tuttora in Africa A costruire degli ospedali Questo ti fa onore E noi abbiamo sempre bisogno Di far capire al pubblico L'importanza Di quello che si fa In questo modo La sua storia La sua visibilità Certamente potrebbe Aiutare molto A far capire al pubblico Il senso di scelte Di questo tipo E quanto sono importanti Senti Qui c'è un Nostro ospite E noi lo ringraziamo Che oggi È venuto qui ad Andalo Che è Loris Pagano Che fa una cosa strana Tu mi hai detto Ma veramente Gli voglio fare io la domanda Lui Per 15 euro Che cosa fai? Vai alla ricerca? Dei pokemon Per conto di altre persone Ah ma questa cosa Non la sapevo Adesso siamo arrivati Anche ad andare A cercarli a pagamento Ma tu li hai trovati? Sì sì Io personalmente Il mio account Diciamo che è terminato Per il momento Li hai trovati tutti Però io sono ignorante Queste cose Ma lo devi spiegare Cosa vuol dire? Ci sono alcuni pokemon Che in Italia Non si trovano E altri che Non li hanno ancora Messi nel gioco Io per ora Li hai trovati tutti Però io sapevo Che c'erano anche Delle applicazioni Che ti craccavano Tu andavi in America Con il GPS Quindi c'erano un po' di furbate Questo è vero Però io Col fatto che Sono scritto a un sito Che è una piattaforma online Che si chiama ProntoPro.it Dove si possono trovare Tutti i tipi di professionisti E servizi Al quale io ho contattato La redazione E ho proposto a loro Di aprire una nuova categoria Ovvero Il cacciatore di pokemon Per conto terzi L'hanno accettata E da lì Ho avuto quasi 470 richieste Qui a Dandolo L'hai trovato? No Qui a Dandolo Ci sono pochi Non ce ne sono? Ci sono pochi Ci sono ma ce ne sono pochi Però io comunque Li ho già tutti Dopo mi devi spiegare Cosa sta roba Non ci ho capito nulla Però così non vale Il gioco è nato Che bisogna camminare Cercarli No giusto Però il fatto è che io Giocando per conto di altre persone Cammino a lungo Gioco anche per il mio Quindi io l'ho terminato Per il semplice fatto Che ho giocato anche Per tantissime persone E dopo gli altri Invece in base al loro obiettivo Quello che vogliono raggiungere Mi contattano Sempre tramite questo sito Mi dicono cosa vogliono fare Mi pagano Che cosa strana però Perché alla fine Se non lo finisci neanche tu In realtà Dov'è la soddisfazione? Lo fai fare agli altri No ma il fatto è Perché il gioco è uscito 15-20 giorni prima In Australia Quindi chi ha scaricato il gioco prima Quindi ha giocato prima Chi invece l'ha usato dopo Quando è uscito in Italia Diciamo che Se indietro di ventigione Per quanto riguarda il gioco È tantissimo Questo è il tuo lavoro? Io l'ho scaricato No 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 Io lavoro in un fast food Ah ok ok Perché non c'è nella grande distribuzione Allora nel 68 Questo personaggio Che è qui con noi Partecipa ad una selezione Per la formazione Del complesso di Gianni Morandi Poi ha fatto Sanremo Tantissime volte Ha vinto La gondola d'argento Alla mostra internazionale Di musica leggera Di Venezia E poi ha scritto Dei successi indimenticabili Io sono sicuro Che tu li avrai ballati Li avrai Con il tuo fidanzato Sei fidanzata? No è singolo È singolo Non diciamo le queste cose Signori Donatello A tambur battente show Eccoci qua Che cosa ci canterai? Grande Donatello Beh questa volta Allora tu hai citato Il festival di Sanremo Ma negli anni 70 C'era un festival importantissimo Che era il festival di Venezia E lì presentai questa canzone Che si intitola Malattia d'amore Che bella Malattia d'amore Come tutti noi Donatello Vini vini Che adesso Malattia d'amore È una canzone Che ha avuto un grande successo Prende solamente il cuore Questa malattia L'amore Incomincia questa età Non ha senso senza te Penso che potrai guarire E mi sento già morire Una cosa brucia in me E l'immagine di te Alveri verti E' l'amore, è l'amore, tutto il freddo, tutto il caldo che hai nel cuore, è l'amore, è l'amore, solo l'amore. Prende solamente il cuore, questa malattia, l'amore, non ha senso senza te. La cuba nero, sorride nel cielo, dopo la pioggia ritorna sereno, nella tua rima bianca c'è posto per me. E' l'amore, è l'amore, tutto il freddo, tutto il caldo che hai nel cuore. E' l'amore, è l'amore, è l'amore, è l'amore. E' l'amore, è l'amore, è l'amore, solo l'amore. E' l'amore, è l'amore, è l'amore. Oh, I got a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I'm just gonna tell you right now that I, I believe, I really do believe that something's got a hurt on me. Oh, something's got a hurt on me right now, time. Never say now, I got a feeling I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk, I say, oh, 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 oh. I say, baby, oh, you must be in love. Let me tell you now, times that I hurt on me, yeah. Let me tell you now, times that I hurt on me right now, time. Never say now, I never felt like this before. Times that I hurt on me, no one let go. Believe I'd die, if I only could. I sure feel strange, but I sure feel good. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sì, baby, oh, you must be in love Never till you know My heart's been heavy, my feet feel like I shake a love, but I feel alright I never felt like this before Something's got a heart on me, don't want to let go I never thought it could happen to me Got me happy when I'm in misery I never thought it could be this way Lost you gonna put your head on me I say, oh, oh, oh Oh, oh, oh Sì, baby, oh, you must be in love I say, oh, oh, oh Oh, 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 oh Sì, baby, oh, you must be in love Oh, you look like a love Oh, you look like a love Make me feel right It's not me, Lord, tonight Signori, ma che meraviglia Tambur Batente Show Il maestro Lavia, il maestro d'altri E la signorina Jennifer Jennifer Tu li puoi parlare in spagnolo, eh? Eh, sì È cubana È cubana, mi ha dato, bellissimo 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 È così, mi ha gustato moltissimo Lo sapevo anch'io, eh Meravigliosa, mi ha dato il corazon È che mi ha gustato moltissimo Grazie È tu dicendo grazie, rispondi No, perché lei ha parlato molto bene Ah, parla molto bene lo spagnolo Io traduco perché in lingue sono una frana Molto bene, complimenti Grazie mille È una tua collega, eh? Sì, sì Mi ha piaciuto tantissimo Ero lì dietro che ballavo Sì, abbiamo ballato Sono tutto scusato Sei ad Andalo già da due settimane Sappe che devi rimanere ancora per cinque settimane Adesso porti il tuo fidanzato in piscina Jennifer Grazie Torniamo, torniamo Perché poi, vedi, Grameno Si fidanzano tutti gli uomini di spettacolo Uomini e donne, naturalmente Sono tutti fidanzati Eh? I burocrati Cioè, invece i burocrati Gli ambasciatori Quelli che lavorano a Farnesina No No Cioè, tu tua moglie come l'hai conosciuta? L'ho conosciuta in Brasile Ah, vedi mo Secondo me è in Sud America qualcosa Quindi è brasiliana È brasiliana Io ho conosciuto lei invece Cinquantacinque anni fa Alla casa di riposo Alla casa di riposo Capito Senti, tu volevi fare delle domande invece Qui ha Io non ho capito Quando uno prende sti animaletti Che poi alla fine Qual è il gioco? Prenderli Ce li hai e basta Ma dicono che la casa Che è la casa Che li ha prodotti Che li ha inventati Pokémon Company Che faccia miliardi e miliardi La Nintendo Giusto? Sì Fa parte delle marche Nintendo Si hanno guadagnato Miliardi di dollari Nel primo I primi dieci giorni Hanno guadagnato Sette miliardi e mezzo di dollari Ecco Io adesso All'inizio c'è stato un boom pazzesco Perché ovviamente era la novità E tutti volevano giocare Però dopo un po' Ti dico Anch'io l'avevo provato Ma è sempre la stessa cosa C'erano che questi animaletti E' sempre uguale Può essere monotonia Se non vuoi arrivare fino in fondo Ma i veri giocatori O comunque chi ha piacere di giocare Di arrivare fino in fondo Ci arriva a tutti i costi Però Devi avere proprio la passione Per Perché all'inizio era una novità Era una curiosità Quindi aveva coinvolto Un pubblico maggiore Non solo ragazzi Però E a lungo andare invece Ha riscosto successo solo Chi era veramente interessato Tipo adesso giocano solo i veri giocatori Quindi tu sei un professionista Sono un professionista In Italia sei nel numero? No Non c'è una classifica Perché comunque Non viene stilata Quindi nessuno Tu sei arrivato in fondo Io sono arrivato in fondo In Italia in quanti sono arrivati? Per me si possono contare Granmenos è arrivato in fondo Te lo dico Vabbè lui la possibilità di andare all'ES Poi ci sono dei Pokémon Che in Italia non ci sono Ci sono in Asia Ci hai giocato Sono i Pokémon rari Io ho avuto l'illuminazione Se inizio a cacciare Pokémon per procura Durante le missioni Non ho più problemi Senti invece Tu fatturi quando trovi Sì io ho una partita IVA Ah ecco fattura anche Cioè tu immagina Ma sai che c'è una cosa pazzesca Che c'è un video che hanno messo in rete Che non penso tu l'abbia visto No perché io sono Del Central Park in America Dove c'era Non so quante centinaia di persone Che correvano nel parco Perché stavano cercando Ci hanno bloccato la strada Questa è una cosa pazzesca Sì c'è questo video È un gioco È un gioco Deve rimanere Quindi consiglio anche a tutti Anche i guidatori Di giocare sicuramente responsabile In sicurezza C'era un centinaia di persone Prima la sicurezza è per se stessi Poi anche per chi ti sta intorno Senti dottore Tu quando hai avuto l'incidente Il premier era Berlusconi No? Quindi tu E quando invece ti sei svegliato Era Parioletto Renzi Renzi o Monti No Renzi Però tu ti sei svegliato Che era ancora premier Berlusconi Che c'era ancora Qualche cappello in più Ma la cosa Una cosa strana Quando tu sei uscito dall'ospedale Ci hai visto un mondo 12 anni invecchiato Invecchiato Sì No ricordiamo gli amici a casa Che il dottore Primario in ospedale Allora era Lodi Giusto? Ha avuto un incidente stradale E 12 anni della sua vita Facciamo vedere il libro Profilia 12 anni alla telecamera La Dolcina rossa E 12 anni Spariti Spariti Bruciati Pazzesco Non solo l'aspetto politico Io non è che mi occupi Poi tanto di politica Sì chiaramente Come tutte le persone L'aspetto più sconvolgente Per me è stata La tecnologia Ah immagino E certo perché Intanto ai miei tempi C'era la lira Io mi sono addormentato Con la lira Con la lira Con l'euro Non so se sapevo Cos'era l'euro Perché lo sapevamo già Il telefono Telefonava e mandava gli sms Whatsapp E tu non sapevi farlo YouTube Facebook Tutte queste cose Tutte queste cose Le ho imparate Ma le ho imparate anche velocemente Perché mi sono servite per recuperare Ah Perché tu le usavi Prima dell'incidente No Non sapevo cosa fossero Nel 2001 Io e mia moglie Con i miei bambini Ci siamo comprati Il primo fisso Un Asus Nel 2001 Nel gennaio del 2001 Tutto il resto Magari qualcuno Qualcuno come lui Molto molto tecnologico Nel 2001 Aveva già Qualche contatto Io mi ricordo che Le mail Provate a pensare La vostra vita senza mail Quando mi hanno chiesto Qual è la tua mail Io ho detto Lavoro nelle poste Ma Qual è il problema Sapendo benissimo Che C'era la mail Ma io non le Usavo Quindi tutto Ma anche dal punto di vista Scientifico Se io avevo bisogno Di un articolo Io andavo Dalla mia Bibliotecaria E dicevo Tina per favore Mi stampa New England Journal of Medicine Questo è Adesso Esiste PubMed Esistono dei motori Esistono dei motori di ricerca Per cui tu vai E ti trovi Assolutamente Tutto quello che vuoi Però dicevo L'ho imparato velocemente Perché mi è servito Per ristudiare In maniera Molto molto Più veloce Quello che Io credo che Se non ci fosse Stato internet E non avessi imparato Ad usare questa tecnologia Ci avrei messo Non due anni A recuperare Quello che mi serviva Per tornare a lavorare Ma ci avrei messo Dieci anni Cioè non ce l'avrei fatta Io mando sempre mail A Fidia Ma io non le so mandare Ho capito Appunto Lei non sa rimandare Quindi ho pensato Già ho tanto i messaggi Con i miei 55 Non abbiamo internet Wi-Fi Tutte queste cose Non ci sono Fidia tu non c'eri La scorsa settimana Lui è un diplomatico Della Farnesina L'ultima volta Che sei venuto da noi Mi sembravi un po' pessimista Sulle sorti del mondo Invece la scorsa settimana Hai usato la parola Sono ottimista Per gli accordi Cina-Russia Brasile Perché l'immigrazione continua Cioè La gente che se ne va Dal proprio paese Continua Non è tanto per quello Gli accordi vanno avanti Sono ottimista Perché la gente Si sta accorgendo Di cosa sta succedendo E si sta accorgendo Che può fare qualcosa Infatti Prima della trasmissione Ho detto Io voglio soprattutto parlare Di quello che possiamo fare Tutti noi Di quello che noi Come Italia Stiamo facendo Per esempio In Africa Questo problema È il clima Un problema gigantesco Ma la cosa strana È che possiamo Risolverlo facilmente Con tanti piccoli gesti quotidiani Che oltretutto Ci aumentano La qualità della vita Non è che hanno un prezzo Tra l'altro ci rendono Ci rendono anche più ricchi Perché se tu spendi meno energia Non la paghi Quindi Entra tutto nel tuo portafoglio Ma siccome so Che abbiamo tanti amici Su tutti i continenti Io volevo passare Una raccomandazione strana Prego Torniamo a coltivare la terra Guarda come si faceva un tempo Strana idea Cosa c'entra col clima Ma una pianta Di cosa è fatta La pianta è fatta di carbonio E quel carbonio Da dove lo tira fuori Lo tira fuori dall'aria Quindi sottrae carbonio Al grande problema Nel cambiamento climatico Ma non è qualsiasi coltivazione Che funziona Se tu fai le grandi coltivazioni Estensive Con i concimi chimici Eccetera Questo meccanismo si inverte Tirano fuori carbonio All'aria Invece di assorbirne Allora Perché dico tutto questo? Perché se ognuno di noi In tutti questi continenti Ricomincia a Piantare Come si faceva una volta Già è quasi sufficiente Per risolvere tutto il problema Allora Tornando a quello che faccio Cosa faccio io come lavoro? Io cerco di aiutare i paesi poveri A fare la loro parte O a proteggersi Dai cambiamenti climatici Ed era questo Che volevo soprattutto dire al pubblico Siamo orgogliosi dell'Italia Ogni anno si perdono 12 milioni di ettari Di terreno vitale Muore In Italia? No Al mondo 12 milioni di ettari Alla superficie della Bulgaria Allora noi ci è venuta un'idea Adesso la stanno seguendo tutti quanti Siamo andati in Africa Stiamo prendendo Tutti i terreni Delle zone Da dove si originano le migrazioni Dove ci sono i conflitti Eccetera Stiamo aiutando la gente A ripiantarle Così noi prendiamo Con una fava 12 piccioni Assorbiamo carbonio Facciamo ripartire l'economia Proteggiamo l'acqua Diamo di nuovo dignità Alle culture tradizionali Perché gli diciamo Piantate Ma non piantate Come fanno le fattorie Di 5 mila ettari Piantate come facevate voi Un tempo Eccetera Ma io ho un appello Da rivolgere a tutti In tutta questa questione Ci manca un pezzetto Questa gente Le cose nuove Che pianta Le deve anche vendere Abbiamo amici Su tutti i 5 continenti Forse c'è una soluzione Compratele Trovate delle filiere Mettetevi in contatto con noi Dobbiamo trovare Come smerciare Tutte queste produzioni nuove Che stiamo stimolando E che salvano quelle comunità Salvano il clima Salvano noi Torneremo a parlare Di questo argomento Chi invece tutela il clima Chi tutela l'ambiente È sicuramente la comunità di Andalo E guardiamo la cartolina La cartolina di Andalo Andalo Dove la vacanza è un'arte Immersa nelle Dolomiti del Brenta Andalo è una delle comunità turistiche Più conosciute in Europa Grazie alla qualità del suo turismo Goditi le vacanze Scegliendo ogni giorno Trasporta, natura Storia e cultura Andalo ti aspetta Con le sue piste E i suoi impianti di risalita Nel cuore della città Vivi Andalo Scegliendo tra le tante attività E servizi Piscina, beauty Sauna, solarium Bodyfit Palaghiaccio Sala giochi Cinema E tanto altro ancora E non ti scordare di richiedere La carda Andalo Vacanze Per usufruire dei tanti sconti E servizi gratuiti www.andalovacanze.it Qui dove il mare luccica E tira forte il vento Su una vecchia terrazza Avanti al golfo di Sorrento Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce E ricomincia il canto Te voglia appena sai Ma tanto, tanto bene sai E' una cadena ormai Qui sciogliù sangue Rinde bene Vide le luci in mezzo al mare Pensò alle notti là In America Ma erano solo le lampare E la bianca scia Tiumelica Senti il dolore nella musica Si alzò dal piano forte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Mi sembrò più dolce anche la morte Guardo negli occhi la ragazza Quegli occhi verdi come il mare E poi D'improvviso uscì una lacrima E lui credette Di affogare Tu voglia appena sai Ma tanto, tanto bene sai E' una cadena ormai Che sciogliù sangue Rinde fessa Potenza della lirica Dove ogni dramma è un falso Dove con un po' di trucco E con la mimica Puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano Così vicini e veri Ti fa ascoltare le parole Confondono i pensieri Così diventa tutto piccolo Anche le notti là In America Ti volti e vedi la tua vita Come la scia Di un'elica Ma sì E' la vita che finisce Ma lui non ci pensò Poi tanto E anzi Si sentiva già felice E ricominciò Il suo canto Il suo canto Te voglia appena sai Ma tanto, tanto bene sai E la cadena ormai E la cadena ormai Che sciogliù sangue Rite bene 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 Grazie. Un po' d'amore a volte ho rinunciato, ma so che ritornerà qui a raccontare come sei importante e a quanti giorni in cui nella mia mente respiravo con te. Tu, la condizione perfetta, noi, uniti ancora di più. Siamo una cosa sola, mia spina e tu la rosa, adesso voglio dirtelo perché Siamo una cosa sola, con le tue braccia volo, dimmi che bene sogno, semplicemente vivilo perché Siamo una cosa sola, siamo una cosa sola, siamo una cosa sola Io e te, io e te, io e te, io e te Sì, però sai nessuno ti regala niente E pochi amici trovi tra la gente Quando non sei di più Ed io, quante volte sai mi sono chiesto Se il mio cammino fosse quello giusto Per raggiungere te Che sei La condizione perfetta Noi Uniti ancora di più Siamo una cosa sola, con le tue braccia volo, dimmi che bene sogno, semplicemente vivilo perché Siamo una cosa sola, con le tue braccia volo, dimmi che bene sogno, semplicemente vivilo perché Siamo una cosa sola, siamo una cosa sola, siamo una cosa sola Siamo una cosa sola, io e te Per tutto questo amore Per tutto questo amore A tambur battente show, che bravo Grazie Davide Mattioli con un brano scritto da lui Come il titolo? Siamo una cosa sola Io e te Grazie Il titolo Zanotti Zanotti e anche le parole sono le tue Tu devi sapere che questo signore Questo ragazzone Un po' basso di statura Lui è andato in pubblica cieca Per fare il pizzaiolo Giusto? Il pizzaiolo Poi a un certo punto si è stato scoperto Poi verrai a raccontare la tua storia nel talk Nelle prossime settimane Si è stato scoperto Da chi? Dal direttore di una casa superattica E oggi lui A parte si è sposato con una ragazza bellissima Della Repubblica cieca Sta partorendi in queste ore Non sto scherzando Quindi tu diventerai papà E tu sei qui ad Andalo E lui Poi racconteremo ripeto la sua storia Nella Repubblica cieca È più famoso di Ramazzotti Concerti con 20.000 persone 10.000 Eh no è così Complimenti Grazie Quindi lui è andato là per fare il pizzaiolo Ha trovato l'amore ai figli Il successo E chi si scosta più? Che te devo dire? Assolutamente no Rimango là però l'Italia Ok Grazie Grazie Davide Un applauso Che meraviglia il tambur battente show Anche perché musica Storie incredibili Come questa Come questa del dottor Piccioni Insomma è bella questa cosa Lo sai chi si chiamava Piccioni? Tu non lo puoi mai immaginare chi si chiamava Piccioni Chi? Eh nelle prossime settimane avremo anche il mitico Seimandi Che era l'autore Vabbè parte di Autore di molti programmi televisivi Era l'autore di Mike Buongiorno Mike Buongiorno Si spostava in elicottero Il suo diciamo Pilota di elicottero Si chiamava Piccioni Lo sapevi? No assolutamente no E' una chicca che ti do Ecco Allora torniamo alla terra Cioè torniamo a A coltivare la terra Cioè anche noi Cioè io e Fidia Ci mettiamo lì A zappare A zappare Pomodori, cipolle No? La natura non chiede a nessuno Di fare cose impossibili Eh Però se noi la terra ce l'abbiamo Se abbiamo un giardinetto sul balcone Coltiviamo Coltiviamola Ah E' una maniera strana Facciamo del cibo più salutare per tutti quanti Aumentiamo la qualità della nostra vita E assorbiamo carbonio Se tutti quanti facessero un poco di questo La metà di questo tragico problema lo risolviamo Chi non lavora Cosa fa? Non fa l'amore Non manco conoscere Vini vini andiamo qua perché Ma non sai la canzone di Celentano Eh me la sono dimenticata E Claudia Mori Abbiamo una tua collega La conosci? La Colombini La signorina Colombini Certo che si Ci canta adesso True Colors di Cindy Lauper E' bravissima la Colombini Eccola qua Tambur Battente Show E' bravissima la canzone di Cristo La canzone di Cristo Cassero E' bravissima la canzone di Cristo Dio Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti